C'è un quattro modellatore? Da lì verificati, sempre verificati, così. Ah, sì, Timp, ok, sì. Prende FFS, lo dico anche nella verificata. Timp, sì, sì, Timp, poi STI. Eri in STI? Sì. STI, poi Oxic, FFS. Oxic ci sei ancora, forse, lo sai? No, no, non ha cambiato tutti. Non ti ho cliccato? Sì, non ho cambiato tutti. FFS, perché c'ho per me? Venite, venite, porco Dio, lo stato. Siamo qua, dove? Siamo qua, dove? Dimmi dai questo po'. Vabbè, non ha andato il link. Non ha andato il link. Non ha andato il link. Ah, in launch, porquè. No, ti dico solo che... Ma perché hanno sfumato il mio video, Cranker, umanvivanigitalia? Un attimo, un attimo. Devo ricordarmi a posto. Quattola piander culo. No, ti spiego, ti spiego, ok. Devo andare a essere in giro, va bene. Oggi faccio... Sono io, Rav, gira, vaffanculo. Che cazzo di team? Ma che cazzo di team sono, Rav, mannaggia il cazzo, ma dai. Chi li ha fatto? Avete messo... Avete messo... Uno, uno, uno che non guardo là. Allora... Allora, ci fa, cosi, però, gira, goe, che... No, io video la K, non ho preso il cazzo. Ok, allora gira, vai, semi, vai. No, anche perché questa è l'ultima partita da Rav. Come gira, semi, non l'ho mai visto. E neanch'io. No, io l'ho visto una volta su KPC, l'ho visto una volta... Ci vediamo, vediamo se... Ma sono tutti Rav, comunque. Sì, siete tutti i Rav, di madonna. Cambia. Triple Rav andiamo, raga. Chi fa la Smash Kill, lo potete fare? Raga, 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 dovete entrare perché, sennò non ho start. Ma chi ha che spattro? Ne serve un due. Sono io, sono io, è buggato, è buggato. Lo vedi? Grazie per il Nox, oh shit. No, esci, esci, calcifer, calcifer, esci adesso da Nox. Esci proprio. Ah, ok. Sì, sì. Sì, sì, esci, esci. Ti dico solo una cosa. Esci e manda l'application per gli ex. Ti accettano subito. Ah, non botti gli auto che gli accetta tutto automaticamente. Non sto scherzando, non ce l'ho mai sentito. Ma, eh, cifo, mi sa che hai messo il minimo autplayer. E lo so, è chiamino. E c'è chi è che viene. No, ma c'è un SMG. Ma raga, guardate i team, comunque. I cazzo SMG. Si, fa giro, hira, cacifer. Che cazzo fate? L'SMG è mio. Cazzo fate? No, comunque è SMG equilibrato, secondo me, alla fine. Ma spera, raga, raga, metto il nuke tamer, metto il nuke tamer. Così mi vedete da casa l'opera. Ma è quello che gira con le nuke. Oh, Dio. Blue Thunder 25, ma che cazzo? Oh, mio Dio, Claudio. All'altro di Claudio. Hydra. Hydra, mamma mia. Adesso flexo, abbiamo la, raga, abbiamo la parade. Hydra Nox sopra. Ok, cambi la mano. OIL on top, comunque. Quello sempre. Giusto per dire. Oh, shit. Ti ho preparato, marito. Ma che è questo? Ti ho preparato qualissimo. Ok, niente. Non ci stanno aprendo. Perché non? Eh, oh, succede. No, no, dopo che... VALACCO DISTO, WELL LUCK. Ma perché se tu hai più off point, raga? Non siamo off point. Ma, no, c'è. Ma spera, volevo riservire. No, no, no. Prefairato 1. Ok, lo vedete, mi ha preso con la red. Adesso GC1. Nuket tamer. Gigi, Gigi. Trae, bisogna flexarlo un po', non lo uso mai. Non lo uso neanche in pub, fammelo flexare un po'. Vabbè, lui è fortissimo pure col semi. Ma? Eh, gira, guarda. Gira, è fortissimo pure col semi. No, 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 bro. Volevo citando. Ho messo tutto. Ho messo tutto. Ho messo tutto, video. No, devo ricaricare. Ammassalo. No. No, ma perché siete in 5, tutta da un tratto? Non 5. 5, 4. Long, 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 long. No, no, no long, no one long. Però non dire stransateci, per favore. Oddio, ti ho ficato malissimo. No, sì, per favore. Tanto guarda, 3, 2, 1. No, Blue Thunder 25. Ci fa mid, signori. Guarda che CD ha. Oh, man, calci ferro. Io ho fatto. Ho un lato al palese. Vabbè, vabbè, qualcuno. Vabbè. Ma chi è che sta sputtando il microfono, tipo? Ma che cazzo fai, porco Dio? Chi è che ci sta sputtando nel microfono? Ma? I need some one two picks. Oh, bari. No. Bene. Oh, bari. Mi ha scolato, mi ha scolato. Mi ha scolato. Mi ha scolato. Stiamo giù davanti. Cifa, cica. Oh mio Dio, io sto per ammattare Ando, te lo giuro. No, che è calda. Sti per questo cazzo di nuovo. No, me stavo scolaggianto. Non riesco a dotare gli stermi, ve lo giuro. Dai, ragazzi, vi supplico. Ma non stuprate di scelta. Mario, no. We mid, polco Dio, che cazzo fai? È tutta strategia. È un po' antitattico. Stanno anche vincendo, ok. Stanno anche vincendo, ok. Gira il prego, cazzo. Perché prego il microfono? Gis, gira. Ma sei rotto oppure... No, dai. Dai, ho imbottato iro, però non sono buono. No, non riesco a sparare, non riesco a sparare, non riesco a sparare, non riesco a sparare. Il segno è brutto, non riesco a sparare, non riesco a sparare. È brutto sta... Non riesco a sparare. Io sto chillando, tutto in fattanza, così. Te lo giuro, bra. Oh, io sto palesemente imbottando, ma la cappa va a cagare il cazzo. Io sto palesemente imbottando, Yuji. Sì. Dici. Che cazzo di short, ma che cazzo siete? Ma vabbè, f*****o. Io stavo dando un ex, un po' Mi stanno dando un side, tutti i fieri. E tu, mi tirano tutti i suoi anderni. Cazzo, che cazzo sei? Uno anderni. Simo anderni, simo anderni. No, ma guarda Simo che è ancora lì, ma vaff*****o. Ah, sipper. Boh, io vi giuro, adesso ce l'ho fa a d'unno, ma la cappa. Va bene? Non ho f*****o io, però. Guarda! Cazzo. Just to know how it feels, it's easy to say. Ancora, ancora under. Poi ho, mi ha sparato con la sitta, vabbè. No, madonna. No, Margaret. Tanone. Ma che è che sta spruendo? Simo è fortissimo, ma non capisco. No, man, ci fa perché lì, perché lì, perché lì, perché? Sì, sì. Poi, io ho. Sì, sei? Sì, sei? Niente, niente. Niente, lui salta sulle casse, mula. Fa le cose. Porco Dio, era un ram. Chi è, chi è, chi è? Aiuto. Ma, no, no, non capisco, non capisco. No, man, non riesco a sparare, lo giuro. Sì, ma insieme, bro. Ah, Dio, cansa, se mi niente. Mi sbasta, mi devo... Devo mainare un'altra arma, raga. Ma ci fa... Ma perché spawno quando spawni due? Facciamo spawn contro spawn. Io, porco, 16-23 sta facendo. Cioè, devo proprio cambiare l'arma. Porco Dio, io non riesco. Ti giuro, non riesco a sparare. Basta, con Rev. Boh, mi sarei cambiato. No, no, ma non adesso. Ti devo poi in generale. No, no, ti... Non riesco a giocare, fratto, non giuro. Barazzante. Eh, buona HP. Rai, becker, 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 simo, becker, simo. No, mi spara Custer. Custer, mi puoi lasciare uccidere Cifa, almeno? Per favore, dai. Dai, Custer. Faglio uccidere Cifa, bro. Serai molto palese. Vai, vai. Tutti lì, tutti i one shot. Però è bellissimo, tutti i one HP. Alc Cifa. Ma? Antonio? Ma? Ma? Ma Antonio che era libero? Due long, semi long. Aiuto, Tony. Ero one. Bravo. No. Man, devi farlo. Eh, due long. Porca troia, non riesco a sparare. No. Uno mid. Cifo è fatto. Io, io, io sto tiltando. Vabbè, vabbè. Anche un colpo è entrato, comunque. C'è uno? No, Cifa, dai, dai, lo sniper no. Ho sceso. Ti prego, dateci gira. Dateci gira. Con la red, con il pino, con la red. Ehm, mi... C'è qualcuno di red, che non lo scattiamo? Eh, non lo scattiamo. No, no, c'è Claudio. No, what? Hm? Vabbè, ma che... Non lo spara, non lo spara. Ragazzi, facendo gira. I swear, man. I shooted, man. Non riesco... No, non riesco, non riesco. Non riesco a giampiccare col Semi. Vabbè, nero. È tipo imbarazzante quanto non riesco a giampiccare con quell'arma. Di che arma stiamo parlando? Semi, non riesco a giampiccare. Sto facendo... Sto facendo... No, man, ho mistato il flicco, ho mistato il flicco. Ah! No! Bravo. Blue Thunder. Blue Thunder, bro. Eh, ok. Tre mid. Erano due mid al fesso. Vabbè, fatto, fatto, bello. Su l'estero, su l'estero, su l'estero. E niente, mi vanno un push in 73 coordinati. Ma che siete, oh? Crunker, siete? Siamo Crunker, ci fa. Preciso. Ma... Ok. Cioè, quello la feels, comunque. Sì, sì. E niente, e niente. Vabbè, sì, alla fine, cioè... Che cosa vi manca? Niente. Ho detto tutte le classi. No, boh, Cifa, basta, è un re-sniper, ho capito. Io sto killando solo Simo, è bellissimo. No, te lo giuro, no, no. Solo su Simo. Ti giuro, no, Cifa, continua, cazzo. Au, abitare i suoi cazzo di amicuni del cazzo. Amicuni. Ma faga solo inside! Oh, me l'ha rubato. No, non riesco a fliccare, non riesco a fliccare. Incredibile. No, devo tivoti di amare, basta. Ho un bisogno. Che schifo, neanche, neanche mi dirà, spada il nusco. Ma poi, che prende me? Ma poi? Ma chi è gli lmg? Chi è quel pazzo criminale? Vabbè? Vabbè? Porco dio, un altro. C'è cazzo perché gli spara e chi mi mette. No, vabbè, però. No, ho smissato, ho smissato, porco dio, perché... Eh, un altro, beh, ho back, infestamente. No, volevo chitarissimo. Minchia, ci stanno distruggendo, bro. Niente, io prefero Cifa, ma lui, decisamente, deve essere un cazzo di sniper. Mannaggia. Che cazzo di merda. Guarda! E lo dietro, sette muri! Eh, lo vedo da sette muri. Guarda, che roba! Oddio! No, bro, io non ce la faccio, comunque, te lo giuro. No! Cioè, non gioca a point, Cifa, lui gioca solo per chi è là. No, non ho sparato! Mi spingi per il culo! Perché ce l'ho dietro, perché? Vabbè. Ma non è il punto della... Boh, non so... Miso, è Miso su erro, che è Miso su Geli. Scinta, scinta, poi le scelte dissi, scinta. Sì, che ce l'ho dietro. Chi ce l'ho dietro? Eugenius! non c'è il senso ammassati no non ho sparato ti giuro ti giuro no non ho sparato dio assurdo comunque davvero è incredibile fra non riesco a giocare realmente sto giocando come un bot in mezzo eh vabbè che il cancro guarda ci fa sta lì fermo in point avessi messo il primo colpo ce l'avrei fatto no a mente avevo visto cazzo messo io mi sta clippando te lo giuro è imbarzante non ti sto clippando bro ma secondo te tra un giorno mi si cancella la count e penso a clipparti bro non riesco a clippare pure mia madre sinceramente ehm ci fa clippa pure mia madre si no no io io e eugenio io clippo veramente di tutto e magari no man ho lasciato più easy della mia vita non sto scherzando niente che fa i 360 mi vio nella mia visuale ha fatto un 360 no man ma no perché andate log raga ma dai che si chiama atti calchi di enfra che l'ha inventato iron perchè sei rev gira chif guarda quando leggero un altro lume oltre chifa che di chilla sarò contento quello l'ho inventato io comunque ho sparato come non l'ho ucciso no 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 guarda guarda chifa guarda fc famiglia va bene gira 1 hp non ho parole no c'ho messo tutti i 1 hp e poi mi hanno acceso ma vaffanculo chissi picca 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 no 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 gira 1 porco di ho preso un bolcher più scrauso della mia vita ok che cazzo si è messo in quell'ambul chi è questo guarda lo ti ho messo e no due è due ho fatto un 180 a claudio che boh sono fortissimo ma mamma mia ahhhh Niente eeeeh niente niente dachi al to the video alf 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 actually ma vaffanculo ma che cazzo ci fate qui raga ma siete stronzi ma poi perchè oddio no no nero tres six nero tres six basta basta che ma no Ah no, c'è BluTown Sniper is fun Sniper is fun, ok Cosa devo giocare adesso? In casuali